Bene, buonasera a tutti, benvenuti, saluto le colleghe, i colleghi, le autorità civili, militari presenti, ringrazio colleghi imprenditori, commercialisti, insomma tutti gli intervenuti ad una giornata caratterizzata da concretezza e la necessità da parte di tutti di avere ulteriori chiarimenti e chiarificazioni rispetto alle procedure e alla normativa stessa legata alla zona franca urbana. È un privilegio quale presidente di Confindustria Centro Adriatico o Confindustria una volta a Scolipiceno poter ospitare oggi qui in associazione questo appuntamento che è un appuntamento probabilmente unico ed irripetibile di avere contestualmente tanti relatori per eterogeneità e per competenze presenti nella stessa sede. Sarà probabilmente un appuntamento unico in questi termini perché i tempi e le scadenze legate proprio alla chiusura della misura della zona franco urbana sono tali da probabilmente non consentire la replica almeno in questa forma per prossimi appuntamenti. A questo proposito ribadisco che la giornata di oggi ci auguriamo possa essere caratterizzata da grande concretezza, un po' lo stile se vogliamo della casa di Confindustria e quindi aprirei i propri lavori di oggi con un personalissimo ringraziamento ai dirigenti e ai funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico di Invitalia che hanno accettato il nostro invito qui oggi. Il sentito ringraziamento quindi alla dottoressa Adriana Canini della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, a Isabella Panunzio, Nicola Buonfiglio, Roberto Valentini di Invitalia. Desidero inoltre ringraziare uno dei nostri più stretti riferimenti all'interno della nostra casa madre, quindi di Confindustria nazionale, il dottor Giuseppe Mele, vice direttore dell'area politiche industriali di Confindustria che ha reso possibile in qualche modo la realizzazione dell'evento di oggi coordinando gli interventi sia nella giornata di oggi ma soprattutto nelle settimane scorse. Ringrazio ancora le autorità presenti, vedo anche la Camera di Commercio nella persona del Vice Presidente Giancarlo Romanucci che ringrazio e ovviamente l'ulteriore ringraziamento consentitemelo è proprio all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili presieduti dal Presidente Carlo Cantalamessa a cui peraltro passerò la parola tra poco e con cui abbiamo se guardiamo indietro Confindustria e ordine dei commercialisti pensato se vogliamo questa misura, quella della misura franca urbana abbiamo calcolato 244 giorni fa e cioè esattamente nel mese di febbraio del 2017 quando proprio in questa sala con molti di voi presenti anche in quell'occasione abbiamo proposto anche con qualche scetticismo da qualche parte, da più parti l'ipotesi di richiedere una misura di carattere governativo che fosse proprio quella relativa alla zona franca urbana. In quell'occasione e lo ricordo ancora oggi perché è un riferimento storico secondo me particolarmente calzante, feci un riferimento ad una pagina di storia importante cioè nel 1703 all'indomani di un sisma analogo a quello del 2016 il Vice Re del Regno di Napoli inviò all'Aquila che nel 1703 fu rasa al suolo purtroppo ecco l'Aquila evidentemente come come questo territorio fortemente sappiamo insomma soggetta ad eventi sismici quindi inviò un commissario straordinario Marchese della Rocca Marco Garofalo il commissario nel 1703 all'Aquila fece approvare l'esenzione fiscale per i cittadini colpiti per un tempo proporzionale ai danni subiti in quell'epoca e con le finanze dell'epoca che forse erano consentitemi la battuta anche più floride di quelle di oggi l'esenzione fiscale durò dieci anni. Ecco qui siamo ovviamente con tempi diversi l'esenzione fiscale sarà 2017-2018 ma mutatis mutandis c'è un riferimento che in qualche modo però ci fa pensare perché questa iniziativa di vantaggio fiscale ormai di diversi secoli fa consentì una ripartenza dell'economia una rinascita florida se vogliamo dell'economia aquilana di quell'epoca e quindi ci auguriamo ovviamente che questo possa essere al di là dei riferimenti storici e delle battute di buon auspicio anche per noi. Sappiamo, sapete tutti che dalle ore 12 del 23 ottobre scorso è possibile presentare in via telematica le domande per l'accesso ai benefici della zona franca urbana quindi il momento è oggi e siamo qui per chiarire se è necessario ma so che è necessario perché ci sono decine di richieste di approfondimenti e di chiarimenti appunto relative alla zona franca. Un riferimento che mi piace fare è un po' questo. Siamo convinti, penso di poterlo dire in qualche modo, di aver condiviso questo pensiero tante volte anche con il Presidente Cantalamessa che le azioni e quello che stiamo facendo sono evidentemente rivolte al raggiungimento di un bene comune del nostro territorio. Bene comune che non richiede protagonismi ma certamente protagonisti che si facciano promotori di iniziative proattive per la ripartenza, la rinascita del territorio. Siamo certi che anche la giornata di oggi vada in questa direzione, siamo certi che la giornata di oggi possa contribuire efficacemente a chiarire molteplici aspetti e quindi a rendere effettivamente fruibili i vantaggi che in qualche modo il nostro Governo ha messo a disposizione di questo territorio duramente colpito dal sisma del 2016. Per noi imprenditori industriali di Confindustria, ma penso di poter dire ancora questo a nome di tutta la classe imprenditoriale, è evidente che il tema dell'impresa è un tema da rimettere costantemente al centro del dibattito in particolare se parliamo di crescita, se parliamo di ripartenza, se partiamo di rinascita perché non c'è possibile creazione di valore, creazione di economia, creazione di sviluppo e quindi in ultima istanza creazione di posti di lavoro che non passi dallo sviluppo del mondo imprenditoriale. e dunque anche questa è l'occasione per farlo e la grande presenza qui oggi mi conferma e mi conforta in questo pensiero o la conferma che questo pensiero sia condiviso da tanti e però abbiamo poco di che rallegrarci nel senso che al di là di questa convinzione viviamo tempi durissimi con imprese e cittadini prima ancora che le imprese voglio dire tanti cittadini drammaticamente colpiti nei loro affetti prima nel loro patrimonio successivamente e mi riferisco evidentemente alle abitazioni e in terza battuta non per importanza ma rispetto ai primi due è giusto di secondo me mettere in terza battuta il tema chiaramente dei danni alle imprese che pure sono stati significativi dobbiamo necessariamente guardare avanti con concretezza ma anche con quel po' di ottimismo che è indispensabile per il mestiere che svolgiamo e per il ruolo che ricopriamo questi incentivi fiscali della zona franca urbana si assommano a una serie di altre importantissime iniziative di carattere contributivo che per questo territorio sono in questo momento attive mi riferisco al bando relativo alla legge 181 che come sapete finanzierà progetti di investimento nel settore manifatturiero, industriale e del turismo sopra la soglia del milione e mezzo di euro avremo e avrete 30 giorni per presentare progetti di investimento a valere proprio sulla legge 181 per l'area di crisi complessa anche qui con un'iltà ma anche con un pizzico di orgoglio ricordo che fu Confindustria ormai due anni fa abbattersi per il riconoscimento proprio dell'area di crisi trovando il supporto della classe politica locale, regionale e poi anche governativa che a fronte di un contesto questo prima ancora se vogliamo del sisma drammatico dell'economia picena ha dunque riconosciuto questa condizione e quindi lo strumento dell'area di crisi legge 181. Ci sono poi, è attivo in questo momento, il bando regionale per investimenti fino a un milione e mezzo di euro anche su questo forse potrebbe essere utile un ulteriore dibattito in un'altra giornata come questa perché mi risulta che siano moltissime le richieste di finanziamento proprio a valere su questi fondi e quindi qui l'auspicio che la Regione Marche possa perché ho la sensazione che il plafon messo a disposizione proprio per questi contributi a fondo perduto che ricordo per tutta una serie di misure tra cui le start up, il passaggio generazionale, nuovi investimenti di imprese già consolidate con investimenti fino a 400 mila euro ma insomma iniziative importanti e credo che i plafon saranno sicuramente assorbiti in pochissimi giorni e quindi l'auspicio è che si possano rifinanziare in maniera importante perché 181 bandi regionali, zona franca urbana più una serie di altre iniziative che chi poi seguirà tecnicamente potrà presentare meglio di me possono rappresentare davvero un momento irripetibile per l'economia del nostro territorio per le imprese micro, unipersonali, per le imprese medie fino anche alle grandi imprese e con entusiasmo raccolgo anche la constatazione che una serie di imprenditori anche inaspettatamente per certi versi stanno valutando con grande interesse la possibilità di insediarsi in questo territorio ho piacere di citare due imprese ma potrei dimenticarne tante altre e quindi mi scuso con quelli che non citerò ma ne cito due con cui ho avuto modo di confrontarmi nelle scorse ore il caso ben noto sulla stampa di Diego della Valle nostro associato proprio qui ad Ascoli Piceno con lo stabilimento che conoscete è in costruzione ad Arquata ma anche lo stabilimento Unimer altra azienda associata qui ad Ascoli Piceno imprenditore milanese dottor Di Maio che di fatto ha deciso di raddoppiare e potenziare lo stabilimento proprio in località Arquata del Tronto forse anche privilegiando questo territorio per la qualità della mano d'opera del personale delle risorse umane che in questo territorio ha trovato è motivo di orgoglio sentire proprio da lui dalle sue parole emozionate delle scorse ore che gli Arquatani in questi mesi sono tutti in trasferta nello stabilimento che hanno in provincia di Treviso per se vogliamo insegnare ai colleghi di Treviso a lavorare così come lavoravano proprio qui ad Arquata del Tronto non cesserà in tutto questo l'azione di lobby l'azione di marcatura uomo che Confindustria insieme anche all'ordine dei commercialisti hanno fatto fanno e continueranno a fare a livello sia regionale ma anche nazionale per raccogliere le istanze le esigenze delle nostre imprese una serie di istanze le abbiamo anche accennate avremmo chiesto ma poi vedremo dopo che non sarà semplicissimo di prorogare anche di qualche giorno qualche settimana la scadenza e la chiusura dei termini proprio per la zona franco-urbana ma poi su questo torneremo successivamente idem per una serie di altre misure che sono in scadenza e quindi senza tediarvi oltre con questo mio saluto voglio dire e concludere che l'azione congiunta che in questo territorio e insieme all'ordine dei commercialisti in questa occasione ma anche insieme alle forze politiche in altre occasioni quella per l'area di crisi abbiamo messo in campo hanno portato i risultati cioè è necessario lavorare in team è necessario avere tante persone capaci e che però vogliano lavorare insieme il lavoro di squadra e di gruppo porta poi i risultati ecco la giornata di oggi ne ha una testimonianza grazie a tutti buona giornata e ringrazio ancora una volta i nostri relatori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti